Buongiorno, questo è un tema che devo fare un forte sforzo per desuggestionarlo, in quanto è un tema di cui cominciai a occuparmi da giovanissimo funzionario al Ministro della Maria Mercantile, addirittura nell'89 alla riunione delle parti contraenti proponemmo le prime misure per la tutela della Posidonia, ricordo che era ad Atene, nella nostra delegazione aveva diffusa l'idea che la Posidonia fosse un'alga, io stesso non avevo nessuna cognizione scientifica, fatto salvo che ero un ex subacqueo delinquente e quindi sapevo che non era un'alga e quindi da lì è cominciata una storia che credo che tuttora meriti una grandissima attenzione, io ho molto piacere, ho anche un altro fattore prodotto dall'anzianità, cioè che vedo qui tanti ex colleghi, amici, conoscenti dell'ex ICRAP, poi ICRAP, insomma compagni di strada di una storia che tuttora stentiamo però a far decollare questo dobbiamo dirci, ricordo un giovane professore si chiama Fresi che faceva un'associazione si chiama SOS Fascia Costiera, ci martorizzava sulle secche di Torpaterno, ho visto Scardi oppure le attività dell'Antondono, insomma ho tanti ricordi affastellati in un paese che continuano a pensare che la cittadonia sia lo sporco, ed evidente che quindi va fatto il massimo sforzo laico, razionale, a tutela di un bene che incarna forse il più importante servizio ecosistemico, i servizi ecosistemici più rilevanti della fascia costiera. Non soltanto per le cose che ci ha insegnato, di ossigenazione, la Narseri, pensiamo per esempio a questo flagello di cui si occupa Danni Cabellini e i suoi laboratori dell'erosione costiera, infatti commentavo con Tunesi quanto è interessante più che il trapianto, il reimpianto, l'ipotesi di reimpianto della posizione, il trapianto dà sempre l'idea di una traslazione, un'ipotesi di reimpianto in tante zone che oggi sono più avanti rispetto a vent'anni fa avendo risolto alcune delle cause della mortificazione di questi posidonieti. Penso quanto vent'anni fa fosse più diffusa aggressivamente la pesca strascico fino anche sul bagnasciuga, oppure quanti passi avanti sono stati fatti, io ieri ero a Castelporziano e il mare ha un colore oggi vent'anni fa inimmaginabile, è un'altra cosa e probabilmente lì parlare di reimpianto a fronte di un'erosione consistente in atto, probabilmente non sarà solo la posidonia la causa, però vuol dire parlare di un paese che difende le più importanti risorse di cui dispone e che è un tema molto controverso adesso, è una fase di crisi radicale, di crisi strutturale, di un modello industriale che sta venendo a pezzi, peraltro non per merito nostro perché siamo stati critici, ma sta venendo a pezzi per causa endogene, per la competizione internazionale, essere in grado di mettere sul piatto un modello anche di economia che ci aiuti a risollevarci da questa crisi, a partire dalla valorizzazione delle cose di cui siamo ricchi, che è la bellezza, la natura, la cultura eccetera, naturalmente come soluzioni che concorrono, non soluzioni esclusive, ripropone l'importanza per esempio per l'economia turistica, ma non solo, della nostra fascia costiera che è peculiare e quindi innanzitutto della difesa della fascia costiera e uso il termine difesa degli addetti ai lavori perché è messa a rischio stante il progress veramente geometrico dell'erosione di ciò che è erodibile lungo la fascia costiera. Io penso che se noi riusciamo a impostare un ragionamento martellante, ma lo dico perché ho avuto un rapporto controverso molto laico anche con lui, il ministro Orlando, cioè l'altro ministro precedente all'inizio pensava che la Posidone era una rogna, poi dopo una lunga chiacchierata si è messa a fare una forte battaglia con alcune iniziative delle conf commercio locali per promuovere il valore della Posidone, non era tanto il problema del ministro Orlando perché si è sempre occupato e si è tornato a occupare di giustizia, lui mi raccontava la reazione degli operatori che trasalivano, allora probabilmente questo ci impone uno sforzo più consistente anche in termini di cessioni di sovranità, da questo punto di vista il ministero, ringrazio Irene, la nostra musa del mare perché mi ha fatto tutta una serie di schede, il ministero è abbastanza sereno su questo tema, noi abbiamo cominciato ad occuparci di Posidone, voi pensate gli anni 80, con le prime mappature fatte dalla SNAM Progetti, voi pensate, ecco, quindi abbiamo continuato a mappare, aggiornare, però se non c'è un senso comune su questo bene, su questo valore, ricordo e guardate che non c'è tantissimo bisogno, ve lo dico, per desuggestionare una discussione che se no diventa ritorica, negli anni 90 Marevivo fa un emendamento sull'importanza della Posidonia, c'è una legge, negli anni 80, addirittura negli anni 70 il professor Fierro di Genova comincia a computare a quanta erosione corrisponde dell'asportazione traumatica o la morte di Prateria di Posidonia. Il problema è che siamo chiamati, ovviamente ciascuno per il proprio ruolo e funzione e quindi chi deve fare ricerca, chi deve fare i controlli, chi deve fare amministrazione, però una riflessione più approfondita, cioè come fare a far diventare senso comune tutto questo. Ieri, guardate, credetemi non lo auguro a nessuno, sono dovuto andare alle 7 del mattino a Capocotta per una trasmissione di Buongiorno Regione, ecco la Regione Lazio sta valutando nel 2014 se a ostia mettere i pennelli di cemento a mare. Tutto questo attesta il fatto che è un paese che perde di senno. E me lo raccontava lamentandosene il responsabile turismo della Regione di Pesaro che mi diceva non l'abbiamo cominciato a togliere 30 anni fa. Allora questo ci deve indurre a una riflessione complessa, concitata, se vogliamo anche senza sconti tra di noi, dove ciascuno cede a sovranità a partire dal Ministero, sia chiaro, non è che qua uno fa la predica. Io rimango colpito, la capitale d'Italia pensa di affrontare i temi della Regione con i pennelli emersi di cemento a mare, quelli perpendicolari alla costa. Io tra secolo allora penso che questa vostra iniziativa importantissima debba accompagnarsi perché poi anche su questa banalizzazione qua appare che ogni cosa ci si può mettere una toppa a calori. Leonardo Pocanzi, mio amico tunesi, mi diceva guarda le esperienze scientifiche sui travianti insomma c'è ancora molto lavoro da fare mettiamola così. va bene Leonardo detta così. Ecco ancora oggi in queste ore noi stiamo parlando di concordia e che c'è chi ci parla del trapianto dei posidoni edilesi. Voglio dire allora questo tema è una parola che non mi piace, l'ho già detto in un convegno dell'ISPRA, però nel caso della posidonia credo si attanagli davvero. La posidonia è davvero un bene comune per la multispettralità delle funzioni che svolge, no? O questa roba diventa davvero un senso comune? Se no noi stiamo a rincorrere, a correre appresso, a stravaganze, lo dico perché mi sento abbastanza di casa e quantomeno con molti di voi. Perché davvero lo scenario, voi dovete immaginare uno fa' sto lavoro con sempre minore entusiasmo, s'alzare sei, vai a Capocotto, io gli dico sai stiamo pensando di fare i pennelli a mare. Tu rimani, dici vabbè è uno scherzo, perché nella zona di Castelpolsiano si avverte anche visivamente una erosione consistente. Però ecco questo è il paese reale col quale noi ci dobbiamo cimentare. Chi più di voi ci si cimenta organicamente, ordinariamente nelle varie esperienze che conducete, alcune diciamo rivolte alle parti più negative del nostro modello, penso al gruppo delle bonifiche, oppure chi come Leonardo oggi ci dovrà dare una mano in questi giorni per fare delle nuove aree varie protette. In entrambi gli scenari penso che noi dobbiamo fare uno sforzo per rendere comprensibile, avvertibile che è un vero investimento che afferisce al presente e al futuro di tante economie costiere. Io penso questo perché se no manteniamo una nostra purezza che non graffia però, a fronte di scenari che comunque concorrono nel paese reale, lo dico proprio pieno di interrogativi, fra l'altro l'informazione, c'era stato secondo me un ottimo ministro dell'ambiente, era un giudizio personale, un ministro del passato che diceva se scrivessero di economia come scrivono di ambiente sui giornali, i giornalisti verrebbero linciati in mezzo alla strada. Ecco, voi vedete quanto è disturbata l'informazione sui temi ambientali, quanto è banalizzata, quanto a fronte di un paese che talmente celebra le proprie complessità che alla fine diventa il paese delle corporazioni, tutto è articolato, non si può risolvere mai il problema. Sui temi ambientali abbiamo sempre una sciorinatura di semplificazioni, banalizzazioni, e guardate non si deve andare lontano, noi per dare all'ISPRA, ma con pacata convinzione, sapete che io ho anche dei rapporti a volte vivaci con l'ISPRA, vedasi la strategia marina, tanto per non nascondermi, però noi De Plano abbiamo dato l'istruttore di 4 nuove aree manie protette all'ISPRA, ma questo è così. Credetemi c'è un ritorno di pruriti, fastidi, nevrosi. Io penso che bisogna fare in modo che ciascuno faccia la sua parte per le professionalità e le competenze che ha. E la Posidonia penso sia un tema nevralgico di queste attenzioni, non possiamo più trovarci con non esperti che parlano di cose di cui non capisco, perché ne va del futuro di questo paese, guardate ne sono proprio convinto, non è che, anche gli indicatori dell'economia, gli indicatori della speranza sono sempre più complessi, perché poi ci vuole, la prima cosa che si chiede a un paese che si deve riprendere, ci vogliono coerenze, ci vogliono scelte. Noi abbiamo questo spaventoso debito pubblico perché il paese si è permesso per vendare di non scegliere, aggiungeva tutto, allora ora c'è il tempo delle scelte. Per un paese come il nostro, che ha una fascia costiera di livello internazionale, quanto a capacità di offerta dal punto di vista naturalistico, ed è un livello internazionale, diventa, uso uno slang di mercato, spero di non annoiare qualcuno che mi abbia già sentito, diventa irripetibile la competizione globale, laddove ovunque si intreccia con valori culturali unici nel pianeta, pensate ai valori archeologici, culturali, ecco questo paese qui deve scegliere se vuole fondare le proprie chance del futuro sui tesori di cui dispone, dare attenzione. Questo non vuol dire economicizzare quella roba lì. Guardate chi come noi ha fatto l'esperienza della conferenza delle aree protette, vi segnalo che ci sono dei partner sorprendenti anche sul piano dell'innovazione. Union Camere, chi come me, come me nessuno, però chi più giovane di me tra voi si ricorda le prime battaglie sulle aree protette, le Camere di Commercio erano quelli con i quali ci si batteva armati. Ecco oggi il coordinamento nazionale delle Camere di Commercio dice che non va messo manco un mattone in un'area protetta, perché è il santuario del richiamo dell'immagine, con riflessi, voi pensate alla sofisticatezza delle ricerche, con riflessi importanti sulle produzioni manifatturiere italiane, perché la manifattura italiana che continua a essere competitiva nell'export internazionale è evocativa della nostra qualità di vita. Il cinese che fa i soldi pensa di chiamare il figlio con un nome italiano, lo vuole far vestire italiano e mangiare italiano. Allora salvaguardare questo scenario vuol dire salvaguardare una vocazione di un paese. Tutto questo è filosofia e suggestione? Penso di no, perché se lo dice Union Camera quelli fanno i conti con carta e penna, cioè non è una filosofia. Allora per esempio il mio invito è che sulla Posidonia non dovete fare mai risconti a nessuno, innanzitutto al Ministero, lo dice il direttore generale, quindi figurate, perché è un bene comune che incarna una delle poche chance di futuro di questo paese. Su questo tema bisogna andare avanti. ci incontravamo a metà strada qualche minuto fa con Leonardo, perché non so dove c'era lui, il tema del reimpianto di Posidonia, laddove almeno apparentemente, poi ci sono gli studi, Scardi, non facciamo nulla, non facciamo l'empirismo, laddove sembra che alcune cause eziologiche della scomparsa di Posidonia di interi, perché la torbidezza delle acque, i fattori inquinamentali, la pesca strascico che vent'anni fa aveva ben altri numeri, insomma, ma... Allora in quei casi ragionare di reimpianto di Posidonia vuol dire concorrere a salvaguardare un bene privato nel nostro paese sulle nostre spiagge, per chi come me, ma questa è una platea di Val d'Austani, io sono meridionale, per chi come me è meridionale, consistentemente, è difficile pensare a sciarze del futuro del meridione d'Italia che siano altro dalla vocazione turistica e il tempo libero di quei posti. Allora, le nostre riflessioni, che è bene che abbiano uno zoccolo scientifico qualificatissimo, concreto, comprovabile e ripetibile, però devono tenere presente che stiamo parlando di un bene essenziale, che probabilmente non vale nessun porto turistico che si deve fare, perché i porti turistici in questo paese rispondono a logiche dell'appalto e non del servizio, perché i porti turistici falliscono, perché non c'è la domanda. Allora, quando si affrontano questi temi qua, bisogna avere consapevolezza di cosa si mette in ballo, tra una Posidonia che esiste lì magari da 3.000 anni e una robaccia che ci lascia uno strascico. di immondizia, stavo dicendo una parola più forte per qualche decennio. Allora, ecco la vostra funzione, direi quasi, sacerdotale. Sapete benissimo che io mi arrabbio moltissimo spesso con qualcuno di voi, innanzitutto con Emi, perché magari non ci accordiamo su come, su come, perché e quando, ma sul cosa io ho un profondo, non c'è stato mai un parere dell'ISPRA confutato dalla mia direzione e dal Ministero in generale. Allora, io chiedo parere rigorosi, che non facciano sconti, ciascuno faccia la sua parte, chi ha da difendere motivazioni socio-economiche esca lo scoperto, non si può dire che la Posidonia è un fattore esteriore e su questo penso che dobbiamo andare avanti assieme. Una comunicazione di servizio a Gabbellini, martedì qualcuno di voi, tu per esempio o qualcuno delegato, alle 11.30 vogliamo fare una riunione sul MOSE, al Ministero, per un passaggio di consegne tra l'esperienza fatta positiva e da me difesa, come ti è noto, dell'ISPRA e la nuova esperienza che deve passare alla Commissione via. Quindi, purtroppo, per un bisticcio tra me e Grillo non ci siamo capiti, tutte e due dovevamo convocarmi e quindi nessuno me l'ha detto oggi sta scrivendo, credo alla porta, ti pregherei di trovare una soluzione perché ci sia qualcuno. Questo simbolico passaggio del testimone sul quale c'è una convergenza, sicuramente la stampa ha detto tante cose, però sembrava che su una cosa eravamo d'accordo che il Ministro dell'Ambiente e l'ISPRA dovessero stare fuori dalla luna. Quindi, tutto sommato, ci troviamo accomunati in un destino di esorcizzazione. Va bene? Allora, grazie, buon lavoro e io credo davvero che sia importante questa cosa che fate. Grazie. Grazie.